Bella rossi, benvenuti in questo prossimo episodio di Alien Isolation Eccoci qua ragazzi, eccoci Qui dove ci siamo lasciati l'ultima volta Riapriti Ah, adesso qui possiamo accedere Cosa c'è qua poi? Vabbè, visto che ci siamo ragazzi Però è un casino con tutte queste cose, eh C'è questi simboli stranissimi Non è la stessa stanza questa, no? È diversa Ok, abbiamo della colla Con un pezzo di metallo Vabbè, vediamo quel terminale cosa c'è Andrò in assistenza Ok L'ascensore è rotto, ecco Allora, aspetta Che ti servono dovrebbe essere nel deposito dei ricambi Fila 1, pila 2 Fila 1, pila 2, ok Fila 1, pila... Ah no, B Fila 1, pila B Fila 1, pila B Stazione danneggiata, bene Questo qui Sapevi benissimo Sapevi benissimo che quelli erano gli ultimi offerenti per il sistema Apollo di Sevastopol Ti hai completamente mandato a buttane la presentazione degli androidi Sono interessati Dunque, niente bonus per me Niente metà parte per te Ed io solo sa che succederà ai dirigenti del piano di sopra Sono incazzato E sai cosa mi fa incazzare ancora di più Restare a Sevastopol per controllare che i sintetici vengano disattivati E tu te ne vai a casa Fa sogni d'oro durante il viaggio di ritorno, stronzo Ok, allora, prima di attivare l'android E basta sti suoni Qua C'erano queste cose qua Che direi di andare a vedere cos'è Ora, non penso che ci sia una stanza da questa parte, vero? Credo solo una roba Sì, infatti, non c'è nulla Ah no, aspetta che c'è qualcosa No, è bloccato Ma scusate, ma queste specie di porte si possono aprire in qualche modo? Con la tonfa? No, non credo Boh, vabbè Vabbè, comunque sì Mi è finuto il dubbio Quando ho visto quest'altra uscita Quindi praticamente Non lo so Però almeno C'è qualcosa L'aspetta che Abbiamo quali Ecco qua Pile nuove Anche se quelle erano solo a metà Però vabbè Tanto non le usiamo mai Pronto ad attivarti Quando vuoi Ora, occhio perché questo si può incazzare Quindi Se questo si è incazza Sapete che È tipo la fine, vero? Posso aiutarla? Ho bisogno di un cilindro di compressione Deposito di ricambi Fila 1 Pila B Mi segua Ecco E seguiamolo No, secondo me adesso succederà un casino Aspetta Aspetta Se io vado Tu No, aspetta Questo se ne va, vero? Non mi lasci Non mi lasci A salvare Questo Vabbè Porta chiusa in faccia Sì Perca la miseria Chi è sta roba? Ecco Se c'è questa roba Ecco qui Il cilindro di compressione si trova alla fine di questa fila Sì ma c'è questa roba Ok Androide è andato? No vabbè la colla non la posso Aspetta Poi Molotov No, mi mancano ancora i componenti Che palle Che ne dici se entro prima qua? Ah, solo per questa roba? Chi è? Chi è che Che rivela qua? Allora Alla fine di questa fila Forse ho capito Ah Ah no Pensavo che Tutto vuoto Aspetta Voglio Questo salga Ma è il massimo o può salire di più? Ah no Vabbè Ah, cos'è? È una specie di puzzle? Sembrerebbe Perché altrimenti sarebbe stata una stronzata se questa tizia Potesse saltare Potesse saltare Erca la miseria Aspetta No, qui non mi Eh Vabbè Vabbè In realtà era anche più facile del previsto Solo che Boh Non lo so Allora Alla fine di questa fila Detto Sarà in alto E che cavolo Che cacchio Eccolo Non so Non so Cosa è questo posto Se è È un condotto Ok ma Dove porta? Da nessuna parte Tutto chiuso Cazzo No No eh E realtà Allora Allora io per presentare passi Li sento Ecco Eh Ah no Lì ci sono già stato Che cazzo E adesso se Devo ritornare indietro Ma siamo Praticamente qui Quindi Faccio una salvata Ma scusa Ma qui A A meno che Non ci devo andare più Avanti In quella In quella In quella stanza lì Perché Ci sono già stato E mi da Tipo Un muro invisibile No è sopra C'è in Questa stanza qua Ma C'è Il veleno Lì Tipo Un gas E in più Se Se avanti C'è Un muro Invisibile Quindi Comunque Non Poi Proseguire E prendi Danno Ehi Aspetta che guardo Eh vabbè Devo scendere Aspetta che non so Questo No Quella è la zona Ricambi Vero No Questa è la cosa Quindi per di qua Cazzo Aspetta mo Ci Ci sono Questi Io Io come faccio A scendere Però anche Anche qua C'è un salvataggio Sì Questo me lo Me lo ricordavo Salva immediatamente Salva immediatamente Salva immediatamente Io Do sempre Una Ricontrollata Qua Perché non si sa Mai È letteralmente Sopra di noi Lo sapete Lo sapete Questo Vero Oh cazzo Ok Spavento Spavento Bene Bene Ora questo non se ne va più Che cacchio devo andare? Aspetta Oh cazzo No Eh se All'improvviso Eh grazie Ma forse perché mi ha sentito Mi ha sentito camminare Vabbè dai Almeno per di qua Dai provo a utilizzare la flash Diciamo come Come posso dire Bomba Zitti 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 Allora Lui arriva da qui Quindi L'ho piazzo qui Se non è Vabbè Allora Speriamo Qui non può arrivare Se è da qui Che devo arrivare Sicuro Non abbiamo fatto il giro Vabbè comunque per sicurezza Ne metto uno Me ne metto un altro qua E adesso è un problema Non morirò qui No È un problema È un problema uscire ora No ma c'è quel pallino Che è fermo L'azione sembra un cimitero eh Non vedo nulla Andava fatto immagino Ma è stata una vostra idea Non mia Zitti tutti al Al secondo Tentativo Zitti tutti al secondo Tentativo Lui arriva da qua Oh Ci ha preso tutto Per Su di lui Eh ma Ma c'è anche quello là Vabbè Allora Paco di ricarica Salvo la partita E piazzo il coso Dai eh Oh cazzo che casino Oh cazzo che casino Oh Propri Eh eeeh Eeeeee Eeeh Sì poi Trova L'uscita Ah anche qua Possiamo salvare Che cazzo è sto posto Però prima salvo Sì ragazzi vado ancora una po' avanti E poi ci salutiamo Al prossimo punto di salvataggio Se dovesse rimorere ancora Riprenderemo da qua per il prossimo episodio Allora Cos'è sto posto? Non so perché ma Mi ricorda Doom in un certo senso Con tutte ste cose Ah e non lo posso chiamare Tipo così per le emergenze Vabbè anche se Oh cazzo c'è No Cazzo Non avevo neanche visti quelli Eeeh Che cazzo di mie raciaie Aspetta posso farmene qua di flash Bene Ma è quelle Sì è quelli là Li vedi Aspetta forse mi hanno perso di vista Ma che qua ho visto una cosa già Verde Ah è quella là Ok Angele C'è tipo Ah il ricablaggio Veloce 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 Accesso al portello Eeeh E questi cosa faccio Aspetta Qui è il portello E adesso c'è Questa musica qua Forse lassù c'era C'era qualcosa di Di interessante Però Qua posso andare Ma Di qua dove si va Ah proprio Tutto da Esplorare Aspetta Qui c'è un punto di salvataggio Vabbè Già qualcosa Dai Salviamo Non ci sono nemmeno Nemici vicini Perfetto Ok ragazzi Ma direi che per questo Episodio Di Alien Isolation Direi che è tutto Nel prossimo episodio Vediamo qua il terminale Cosa c'è E niente Quindi ragazzi Vi ricordo Se non siete ancora Iscritti Al canale Iscrivetevi Se vedete Nel giornale Nel prossimo episodio Di questo gioco Di giochi Mettere un bel pollicino Su Subito L'episodio Ma non è la vostra Nei commenti Consiglieremente Consigliere tutto Quello che volete E noi ci risentiamo A un prossimo Video Bella